Oggi dobbiamo parlare di cose serie, di cose serie, vabbiamo a parlare di portieri. Ho l'ermanito, sono G7, quello che tiene le tette, le racchette, le davagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. Benvenuti in questo nuovo video in cui dobbiamo parlare appunto della situazione portieri in casa Napoli. Situazione che viene secondo me troppo, ma troppo bistrattata da una parte grande di tifo, che diciamo un po' con la parte di tifo a cui non piace andare a fondo su certe cose, la parte di tifo che crede semplicemente che un portiere ad Asulu farà, un po' andando a minimizzare quello che è il ruolo del portiere nel calcio moderno, soprattutto in una squadra che predilige il voler giocare a calcio. E ragazzi, il portiere nel 2022 non deve solo parare, il portiere non deve solo parare. Però andiamo per gradi, la situazione portiere in casa Napoli è una situazione particolare perché è una situazione che ha sempre creato screzzi all'interno, in particolare l'anno scorso tra Gattuso e De Laurentiis, con Gattuso che voleva la titolarità di Ospina e De Laurentiis che invece prediligeva Meret perché comunque è stato fatto un investimento importante, circa 30 minuti, se non erro, 32 totali tra lui e Carnetis e quindi vuole puntare su di lui per non perdere l'investimento. Però quest'anno pare essersi abbastanza immorbidito a De Laurentiis e starebbe pensando anche ad una cessione di Meret. Ripeto, andiamo per gradi, comunque con il benestare di Luciano Spalletti. Pare essersi convinto, comunque Meret non sta dando le garanzie che avrebbe dovuto e voluto dare per demeriti suoi, per demeriti di altri, però comunque le sue chance le ha avute. Penso che è stato anche sfortunato in più di un'occasione. Io penso che sia per il bene del Napoli che per il bene di Meret debba lasciare il Napoli e cambiare aria per trovare degli stimoli nuovi, perché in questo momento la fiducia non c'è né da parte della società, né da parte dell'allenatore, né da parte della tifoseria. Penso che gli farebbe solo bene andare a trovare un posto titolare altrove dove potrà magari esprimere delle qualità che a Napoli non è riuscito assolutamente ad esprimere se non per pochi tratti, per pochi tratti. E dunque, la situazione portiere. Ragazzi, la situazione portiere è una situazione che non deve essere assolutamente bistrattata perché bisogna, ma non solo la situazione portiere, Davido Spina, Davido Spina è un calciatore, è un portiere che non deve essere assolutamente disposable. Uno di quelli che, ogni tanto voglio parlare una parola solo in inglese, non mi ricete niente, perdere Spina, che è in scadenza nel 2022, dunque praticamente tra qualche giorno è in scadenza Davido Spina, sostituire Spina, ragazzi, non sarà, sarebbe facile, per niente. Lui ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha detto saremo liberi, dobbiamo prendere la nostra decisione, eccetera, eccetera, eccetera. Può chiaramente significare anche che si può trattare il rinnovo con Napoli, però in questo momento pare che il Napoli voglia anche sondare altre situazioni. Però l'importanza di Spina in un contesto tattico come quello del Napoli, in un contesto come la linea difensiva di quella del Napoli, non è assolutamente da sottovalutare. Ho detto che sono i sidemen a dietro, sono i sidemen loro, sta pure inquadrando là il bro. Comunque, non è assolutamente da sottovalutare perché quando c'è Ospina in campo, la linea difensiva è molto più sicura. Io penso che tra altre cose Ospina sia migliorato anche da quando è a Napoli, ha diminuito gli errori, è migliorato in tante situazioni, e poi è colui che dà sicurezza alla difesa e penso che sia fondamentale in una linea difensiva in cui ci sono Coulibaly e Rachmani, che diciamo a livello di visione di gioco, a livello proprio tecnico, non sono eccezionali, è uno che faccia da collante per eludere la prima linea di pressing, per eludere la prima linea di calciatori, avversari, la famosa costruzione dal basso, che molti ancora pensano che sia il male del calcio, ma non è così tutti i grandi, tutti i grandi lo fanno, e in realtà, se volete solo il lancio lungo, penso che mi sembra veramente quasi incommentabile, la costruzione dal basso, se fatta per bene, chiaramente non per forza, non necessariamente forzata, è un ottimo modo per far ripartire l'azione. E quando c'è Ospina, è un Napoli completamente diverso. Dunque, io almeno come secondo, oppure come primo che possa far crescere un giovane alle sue spalle per inserirlo lentamente, io Ospina lo terrei assolutamente. Ragazzi, queste cose sono fondamentali perché in un progetto tecnico il portiere è fondamentale, non ci vuole l'alternanza, l'insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna essere chiari su quello che si vuole. E sono usciti dei nomi nelle ultime ore. Molti napoletani tifosi parlano di Cragno, io penso che Cragno sia molto difficile. Il Napoli in questo momento sta assondando Juan Musso, che però è già un calciatore diverso da Ospina, non è il calciatore che ti dà la sicurezza che ti dà Ospina, che in questo momento, ragazzi, parliamoci chiaramente, secondo me, nel campionato attuale è diventato un top, è diventato un portiere di tutto rispetto, sia tra i pali, che nell'uscita palla al piede, che nella costruzione dal basso, nell'utilizzo dei piedi, eccetera, eccetera, nel dare sicurezza alla linea difensiva, nel comandarli praticamente col joystick, un po' come faceva Pepe Reina, è uno dei portieri, se non erro, anche con la percentuale di passaggi più alta, se non erro è dietro Andanovic, forse, non mi ricordo chi è l'altro, forse Stracoscia, mi pare di sì Stracoscia. Ragazzi, Ospina è fondamentale, fondamentale. Quando c'è lui, si vede che il Napoli in campo è messo diversamente. Il Napoli costruisce con un uomo in più, quando c'è Ospina. E questa è una cosa fondamentale, perché un uomo in meno, ragazzi, è veramente tanto. Non poter contare sul portiere, nei momenti di difficoltà, oppure anche in un momento in cui tu stai provando a fare una giocata particolare, una cosa provata in allenamento, ti mette in difficoltà, ti mette parecchio in difficoltà, ripeto, soprattutto in una linea difensiva, in cui i titolari sono Goulibaly e Rachmani. E Musso, non so di chi parlavo, io mi sono dimenticato come si parla. Ho fatto un tweet qualche giorno fa in cui ho detto, per me è sì, perché di base, per me è sì, perché comunque ha esperienza in Champions League, non è giovanissimo, ha 28 anni, cazzuto, non ha avuto la sua migliore stagione a Bergamo, però comunque sarebbe qualcosa, sarebbe qualcosa, niente male con i piedi, è uno che tre pali se la cava, ripeto, non ha avuto la sua migliore stagione a Bergamo, però nessuno a Bergamo ha avuto la sua migliore stagione quest'anno. E quindi Musso mi piacerebbe, però insieme a Musso o mi terrei Ospina, oppure mi andrei a prendere, io sapete ragazzi, ne ho parlato e ho riparlato, io prenderei immediatamente Carnesecchi, Carnesecchi è un portiere fortissimo, è un portiere veramente molto, molto, molto forte, che secondo me ha tutto, tutto, per diventare un top assoluto, ha tanta personalità, bravo nelle uscite, bravo con i piedi, è uno che dà quella sensazione già di potenziale fuoriclasse, di predestinato, ecco, di predestinato, predestinato mi sembra più corretto, potenziale fuoriclasse forse è una piccola esagerazione. Detto ciò, ragazzi, la situazione Ospina è una situazione da monitorare, però pare che il Napoli voglia, se stia pensato addirittura a togliersi sia Ospina che Meret, il che significherebbe prendere, secondo me, un primo di livello assoluto, che Musso non è, Musso non è un primo di livello assoluto, è un buon primo, un buon primo, però togliersi Ospina significa dover prendere un portiere forte, 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 perché ragazzi, ripeto, molti sottovalutano l'importanza di Ospina in questo Napoli. Lui, ripeto, la titolarità se l'è guadagnata tutta, se l'è guadagnata veramente tutta, e sta facendo, secondo me, un lavoro straordinario. Quest'anno ha avuto una stagione incredibile, secondo me ha sbagliato una sola partita, ha fatto solo quell'errore col Cagliari, ma poi, dopo l'errore col Cagliari, tra le altre cose, ha fatto 3-4 miracoli di livello assoluto, secondo me solo i grandi, dopo un errore così, riescono a rialzarsi così facilmente, con così tanta cazzutaggine, parole a caso, e niente, niente, ragazzi, c'è la situazione Musso, Cragno sicuramente sarebbe tanta roba, non è il mio preferito Cragno, non è il mio preferito, di base tra Cragno e Ospina preferisco Spina, tra tutti i nomi che si sono fatti in realtà preferisco Spina, Carnesecchi mi farebbe tanto piacere, tra Musso e Cragno chiaramente preferisco Cragno, però bisogna essere attenti, perché ragazzi, bisogna andare a sostituire Ospina nel caso con un nome, non dico altisonante, ma di gran livello. E niente ragazzi, detto ciò, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche il mio canale in inglese, ah non è bene, non esiste più il mio canale in inglese, è questo il mio canale in inglese, lo vediamo la prossima volta, scusate, è l'abitudine, sempre e comunque, tutta la vita, forza, e allora, buone.